Entro la metà del mese di febbraio 2017 verranno consegnati lavori relativi a sei opere pubbliche eseguite da Tecnis, cioè la Metropolitana di Catania, Stazioni Borgonesima, Stesicoro Galatea e Galatea Giovanni XXIII, insieme ad Ospedale San Marco, Collettore di Sarno, in Campania e Porto di Genova. Lo comunica il segretario della Fille ACGL Giovanni Pistorio a seguito dell'incontro tra sindacati e il commissario straordinario del gruppo Tecnis tenutosi mercoledì scorso. Il completamento dei lavori della Metropolitana nei tempi previsti permetterà alla stazione appaltante FCE di ottenere nuovi finanziamenti e quindi di mandare in appalto in breve tempo circa 600 milioni di euro per il definitivo completamento della tratta che va dal comune di Mister Bianco all'aeroporto di Catania. La prossima consegna dell'Ospedale San Marco potrà invece consentire un diverso utilizzo dell'area che verrà liberata per lo spostamento del complesso ospedaliero del Vittorio Emanuele e per la realizzazione di un campus universitario nonché di tutta una serie di nuove attività che permetterebbero l'intera rigenerazione del quartiere Antico Corso.